Buongiorno a tutti, per me è un piacere essere con voi oggi. Oggi parliamo di fossili, però non aspettatevi dinosauri, trilobiti, insetti nell'ambra. Questi sono dei fossili macroscopici e sono tipici di animali complessi, di organismi complessi, pluricellulari e di rocce relativamente giovani dal punto di vista geologico. Più giovani di circa 540 milioni di anni. 540 milioni di anni può far senso, guarda quanto tempo fa è, però se noi paragoniamo l'età della Terra a una giornata in cui il tempo zero, la nascita della Terra e mezzanotte e adesso sono le 9 di sera. La vita è nata molto prima, non è nata alle 9 di sera, è nata circa 3 miliardi di anni prima, è nata verso le 3 di mattino. Per avere un'idea di quello che è successo fra le 3 di mattino e le 9 di sera abbiamo soltanto dei fossili non visibili ad occhio nudo. Sono i microfossili, cioè dei fossili di cellule, sono delle molecole fossili oppure sono semplicemente quelle che potrei chiamare reliquie fossili, cioè dei ricordi della vita impressi nei rapporti di certi atomi oppure fra certi isotopi. Prima di entrare nel dettaglio, nel vivo della trattazione, due argomenti generali. Il primo è come si suddivide l'età della Terra e il secondo come si stabilisce l'età delle rocce. La giornata è divisa in modo aritmetico, una giornata è fatta di 24 ore, ogni 24 ore, ognuna delle 24 ore ha una durata costante e questa è una divisione che, ripeto, definiamo aritmetica. Invece l'età della Terra ha una divisione fenomenologica, cioè è divisa in base a quello che succede. È come se noi dividessimo la giornata in sveglia, doccia, colazione, pranzo, merenda e così via. E le ere geologiche sono molto, sono tante, i nomi sono complicate, però ricordiamone solo una, il Cambriano. Il Cambriano divide quella che una volta si pensava fosse l'età senza vita, cioè da 540 milioni di anni fino a oggi, quella in cui abbiamo i fossili macromolecolari, da quella che si pensava fosse l'età senza vita. Invece in realtà la vita è nata molto presto. E poi il secondo argomento riguarda come si fa a stabilire l'età delle rocce. L'età delle rocce si può stabilire in modo relativamente preciso, sfruttando o certi rapporti fra isotopi oppure certi rapporti fra elementi. Allora, una rapida revisione cos'è un isotopo? Un isotopo è fondamentalmente un modo di riempimento di un guscio atomico. È un modello di riempimento di un guscio atomico. Lo possiamo paragonare a un modello di un vestito. Come un modello di vestito c'è in più taglie, c'è la small, la medium, large, la extra large. Così negli atomi abbiamo dei modelli. Prendiamo ad esempio l'idrogeno. Esiste l'idrogeno comune, che è l'idrogeno che pesa 1. Poi abbiamo l'idrogeno che pesa 2 e l'idrogeno che pesa 3. Uno dei metodi più importanti per stabilire l'età delle rocce è il rapporto fra uranio e piombo. Per cercare di capire come funziona questo metodo facciamo una parafrasi in organica dell'ultimo capitolo del sistema periodico di primo Levi, quello che è dedicato al carbonio. Invece di fare la storia di un atomo di carbonio, facciamo la storia di un atomo di uranio. L'atomo di uranio, come il sistema periodico, la maggior parte del sistema periodico, nasce in una supernova, cioè nell'esplosione di una stella che ha un peso di almeno 8 volte superiore a quello del Sole. Una stella è un braccio di forza fra la gravità che tende a comprimerla e poi delle reazioni che liberano energia e che lo tengono gonfia, per così dire. Immaginate un palloncino. Questa energia proviene dalla fusione. Prima la stella fonde l'idrogeno a elio e poi dopo fonde l'elio generando altri atomi fino a quando arriva al ferro. Al di là del ferro la fusione richiede energia, non libera energia. Quindi quando si arriva al ferro vuol dire catastrofe cosmica. Tutto si disintegra e in questa disintegrazione grande nasce la tavola periodica. Il nostro atomo di uranio quindi nasce in una stella, come la maggior parte del sistema periodico. Alcuni atomi, alcuni isotopi, nel caso dell'uranio alcuni atomi, tutti perché l'uranio non è stabile, decadono e tendono a trasformarsi in qualcos'altro. Il tempo di decadimento dell'uranio 238 è di circa 4 miliardi e mezzo di anni. È ideale per la vita della Terra perché la vita della Terra ha come data ufficiale di nascita 4 miliardi e 560 milioni di anni. Immaginiamo di avere all'esplosione della supernova 100 atomi di uranio 238. L'esplosione è avvenuta 9 miliardi di anni fa, siamo a 4 miliardi e 500 milioni di anni e di queste 100 molecole, visto che la vita media, il tempo di dimezzamento è 4,5 miliardi di anni, ce n'è soltanto più 50. Si sta aggregando la Terra e alcuni di questi atomi di uranio si trovano vicini a un atomo di zirconio. Uranio e zirconio, se andiamo a vedere la tabella periodica, hanno niente in comune. Lo zirconio è un metallo di transizione, la seconda serie, mentre l'uranio è un attinide. Però lo zirconio forma un cristallo, lo zircone, che è una spugna per gli atomi di uranio e allo stesso tempo è impermeabile il piombo. Quindi cosa succede? Il nostro atomo di uranio 238 si trova imprigionato in questo zircone e decade a piombo, comincia l'orologio e il piombo non può più uscire, per cui misurando il rapporto fra uranio e piombo io riesco a stabilire l'età della roccia. Se io trovo uno zircone in cui il rapporto uranio-piombo è uno a uno, vuol dire che quello zircone ha 4,5 miliardi di anni. Dove li trovo questi zirconi che vedremo sono microscopici? Li trovo in quelle zone della terra, della crosta, che non sono state troppo influenzate dalla tettonica placche. La crosta terrestre è più leggera, non può andare distrutta, può solo riciclarsi e il riciclo della crosta terrestre avviene con la tettonica placche. Immaginatevi un paso, la crosta terrestre è fatta di questi blocchi che si muovono, però alcune parti della crosta terrestre sono stati poco influenzate dalla tettonica placche e ce n'è una in particolare in Australia. Vedremo come la maggior parte delle informazioni sulla vita antica provengono proprio da questo cratone, tecnicamente si chiamano cratoni, nella zona ovest dell'Australia. L'oggetto più vecchio che esiste sulla terra è questo zircone che ha 4,4 miliardi di anni. Questo zircone microscopico non si vede a occhio nudo, lo vediamo nella diapositiva sul nasino di questa moneta ed è l'oggetto più antico che esiste sulla terra. È stato scoperto all'inizio degli anni 2000 e ha rivoluzionato le nostre conoscenze sulla terra antica. Non soltanto dallo zircone riusciamo a dedurre l'età, ma anche riusciamo a dedurre addirittura se ci fosse l'acqua e moltissime altre informazioni perché questi cristalli contengono delle impurezze. per cui ha sconvolto le nostre conoscenze geologiche perché una volta si pensava che qui siamo 150 milioni di anni dopo la nasce della terra, si pensava che la terra fosse tutta una cosa fusa, non ci fosse ancora stata la separazione in nucleo, mantello e crosta, invece in realtà c'era già la crosta e c'era anche l'acqua. Adesso cominciamo con i microfossili, abbiamo detto che parleremo di microfossili, cioè di cellule, e il primo argomento che trattiamo è il dilemma di Darwin. Darwin nelle foto è sempre pensoso. Ci sono due ragioni, la prima non stava tanto bene, è vero, e la seconda è anche che aveva un problema con la teoria dell'evoluzione. Darwin elaborò molto presto la teoria dell'evoluzione, però non la pubblicò per tanto tempo, si decise pubblicarla soltanto quando un giorno gli era una lettera di un collega, Wallace, che elaborava le stesse idee. Allora, con savoir faire, che adesso non esisterebbe più, hanno pubblicato insieme il lavoro e poi Darwin pubblica il suo libro, che ha fatto la storia della scienza. Darwin è una persona razionale e si accorge che la teoria dell'evoluzione ha un grosso problema. La teoria dell'evoluzione ci dice che la vita nasce e si sviluppa gradualmente mattone dopo mattone. La vita è una cattedrale, andando indietro nel tempo dovrai trovare i mattoni, però questi mattoni non si trovano, nel senso che tutti i residui della vita, quelli del cambriano, dal cambriano poi in su, sono tutti animali complessi. Per cui Darwin dice effettivamente questa è una critica della teoria dell'evoluzione e non ho nessuna risposta. Il cambriano pullula di animali stranissime, interessantissima la fauna e la flora del cambriano, che nascono ex ovo, così dal nulla, apparentemente dal nulla. Questo problema ha suscitato delle dispute scientifiche asprissime per cent'anni. Per cent'anni si sono cercate le tracce della vita nel periodo del precambriano e poi queste tracce sono state trovate per caso. Questa probabilmente è la gita in barca più famosa della storia della scienza. Siamo nel 1953, nel periodo della Guerra Fredda, e questo signore è un geologo industriale, è un esperto di ferro. I depositi di ferro sono generalmente a bande, non è ben chiaro come mai siano così a bande, e lui fa una domanda per ottenere un finanziamento e studiare i depositi di ferro a bande che ci sono fra gli Stati Uniti e il Canada. Siamo nella Guerra Fredda, il ferro serve a fare l'acciaio, il governo americano lo finanzia. Allora lui va a fare le sue ricerche e siamo nell'agosto del 1953 e decide di prendersi una domenica di vacanza. Affitta una barca, motore, va sul lato canadese e si ferma in questo posto che si chiama Schleiber Bay, comincia a pescare. Pescare è un po' come andare in bicicletta o, come dice Primo Levi, distillare, cioè uno ha le mani impegnate e la mente può vagare. Questo qui sa tutto sul ferro a bande e trova, vede in quella roccia proprio dove c'è il segno, vede una struttura ferro a bande che lo incuriosisce. Normalmente i depositi di ferro sono rossi, i sali del ferro 3 sono rossi e hanno come un panino, un hamburger, in mezzo degli strati di sece, di silice. Questa silice normalmente è rossastra, contiene delle impurezze di ferro e lui nota delle macchie nere. Allora si incuriosisce, con il battello va a riva e stacca un pezzo di questa roccia, se la mette in tasca, torna nel suo laboratorio, fa una sezione sottile, la guarda al microscopio e vede un pullulare di quelle che a lui sembrano delle cellule nere, nere perché i derivati del carbonio sono stati risotti in carbone. Lui non è un paleologo e allora aspetta a dirlo al suo professore di paleologia che vede al convenio della società geologica americana, questo non ha dubbi, dice assolutamente, sono cellule di fungo. Allora cercano un esperto di funghi, trovano un esperto di funghi, il quale si era fatto un'esperienza pazzesca perché durante la seconda guerra mondiale il governo americano l'aveva mandato a Panama a studiare i funghi che crescevano sulle superfici dei cannocchiali e delle armi, una cosa strana. Anche questo qui non ha dubbi, sono delle ife fungine, questi sono tutti funghi con qualche ciano batterio, per cui nel 1953 pubblicano la loro scoperta e in realtà non è che risolvano il dilemma di Darwin, semplicemente lo spostano e lo rendono ancora più sostanziale. In realtà queste cellule non sono di funghi ma sono di cianobatteri. I cianobatteri sono i veri dominatori della vita sulla Terra, i cianobatteri sono apparentemente insensibili all'evoluzione, i cianobatteri di miliardi di anni fa sono uguali ai cianobatteri di adesso, un cianobattero che probabilmente conoscete, la spirulina. La spirulina viene venduta come superfood, è vero perché ha tutto, la spirulina è un cianobatterio e se andiamo a vedere le spiruline di miliardi di anni fa sono uguali alle spiruline di adesso. Questo è stato definito anche la sindrome della Volkswagen, nel senso che noi vediamo la morfologia dei cianobatteri che non cambia, non sappiamo bene se anche il loro metabolismo è cambiato. I cianobatteri oggi hanno una pessima fama perché producono anche delle tossine e queste fioriture di cianobatteri, l'immagine che vedete in basso a destra è il lago Iori che è grande come il Piemonte, tutto pieno da una fioritura di questi cianobatteri. Dicevamo che questa scoperta di questi microfossili in realtà sposta il dilemma di Darwin molto più indietro e lo rende più basilare. Questi cianobatteri hanno 2 miliardi di anni e la cosa singolare è che sono stati scoperti dei cianobatteri apparentemente in rocce di 3 miliardi, quasi 3 miliardi e mezzo di anni fa. Questa è una scoperta molto discussa che riprenderemo ancora nella nostra discussione. È stata fatta da questo paleologo americano, Schopf, in Australia ovviamente, il quale data correntemente le rocce, 3,4 miliardi di anni e in queste rocce trova dei cianobatteri. Perché dicevamo non sposta il problema ma lo rende ancora più base? Perché i cianobatteri hanno una complessità chimica eccezionale. I cianobatteri fanno la fotosintesi ossigenica. Non so se avete mai aperto un capitolo di un libro dedicato alla fotosintesi. Nella scienza ci sono alcuni argomenti che sono più facili, trasversali, diciamo che sono più facili per uno studioso che un altro. Non so ad esempio i potenziali d'azione delle cellule muscolari. Uno studente di medicina appena, uno studente di fisica dice una cosa elementare, ho capito tutto. La fotosintesi è unica perché non è soltanto difficile, è trascendentale per tutti, per i chimici, per i fisici e per i biologi. Come fa in pochi anni, la terra diventerebbe abitabile 4 miliardi di anni fa, come fa la terra, come fa la vita in pochi anni a evolvere la fotosintesi? Adesso ritorneremo sulla polemica, sulla diatriba di questi cianobatteri perché secondo alcuni non sarebbero dei cianobatteri ma sarebbero dei cristalli e vediamo come questa diatriba è stata risolta. Adesso passiamo ai composti organici fossili. Le molecole fossili hanno una durata molto diversa fra di loro. Il DNA dura molto poco, non possiamo certo studiare i trilobiti, il DNA dei trilobiti. Oltretutto lo stato di conservazione del DNA dipende dalle condizioni. Il DNA richiede essenzialmente condizioni fredde, non umide, relativamente secche. Poi abbiamo le proteine, le proteine durano un po' di più e poi chi dura proprio tanto sono i lipidi. Vediamo come è stata fatta una cosa apparentemente incredibile. Sapete che noi abbiamo dei parenti, normalmente i nostri parenti, uno pensa al Neandertal, però alcuni anni fa ne hanno scoperto un altro, i Denisovani. I Denisovani sono in Asia, li hanno scoperti in una grotta della Siberia. Era una grotta in cui viveva un eremita, si chiamava Denis, questa grotta si chiama Denisovana. Di questi Denisovani abbiamo pochissimo. Nella grotta di Denisovani hanno scoperto un pezzo di falange del mignolo e un dente. Hanno fatto, però avevano il DNA dentro, avevano anche le proteine, per cui hanno clonato il DNA mitocondriale, hanno clonato alcune proteine, in particolare collagene, e hanno visto che era completamente diverso sia dall'uomo sapiens che dall'uomo di Neandertal, per cui è nato questo, diciamo, uomo Denisovano. Alcuni anni fa hanno trovato un altro reperto Denisovano in una grotta del Tibet in cui meditava un monaco. Il monaco trova questa mandibola, quella che vedete nella foto, con due denti sopra, non sa bene cosa sia, la dà al suo superiore, il superiore non sa neanche lui cosa sia, e la danno al museo di antropologia del Tibet, della capitale del Tibet. Anche lì non capiscono niente per dieci anni e poi riescono a fare la struttura del collagene. Si vede che questo pezzo di mandibola è Denisovana. Il collagene è la proteina più abbondante che abbiamo, ce ne sono tanti tipi, è la proteina della cartilagine, delle ossa, dei denti, ce ne sono tanti tipi, però il cartilagine, la nostra cartilagine è distinguibile da quella dell'uomo di Neandertal ed è a sua volta distinguibile dall'uomo di Denisovana. Posa abbiamo dell'uomo di Denisovana? Un pezzo della falange del mignolo, un molare e un pezzo di mandibola. Come è stato possibile ricostruire il volto dell'uomo di Denisovana? L'hanno fatto con un medo molto ingegnoso. Ricordatevi che in quel dentino e in quel frammento di mignolo, che oltretutto non si capisce bene dove è finito, perché l'hanno diviso in due e non il sudereghe si è andato perso, non si capisce bene. E sono andati a vedere la cinetica di degradazione del DNA. Abbiamo visto che il DNA non è molto stabile, però il DNA può essere modificato. In particolare una delle modificazioni epigenetiche più importanti è la metilazione dell'acitosina. Il DNA non conosce bene la chimica organica, perché se un chimico organico dovesse metilare l'acitosina, il metilo lo mette sull'azoto, però la natura lo mette sul carbonio. La metilazione dell'acitosina vuol dire la disattivazione di alcuni geni. Allora andando a vedere come questi geni erano stati disattivati, sono riusciti a ricostruire con una certa fedeltà, ripeto, da un frammento, da quei pochissimi frammenti che abbiamo, una mandibola, un dentino e un pezzo di mignolo, l'aspetto dei denisovani. Notiamo che mentre noi nel nostro DNA abbiamo quello dell'uomo di Neandertal, sono invece gli asiatici e in particolare i papuasici che hanno il DNA dell'uomo di Denisova. DNA e proteine sono ovviamente molecole di origine biologica. Per i lipidi abbiamo invece il problema di capire se sono di origine biologica oppure se sono di origine geologica. Questo perché è possibile sintetizzare idrocarburi. E qui vediamo il processo Fischer-Tropsch. La rivoluzione industriale nasce alla fine del Settecento nei paesi che hanno il carbone, perché la rivoluzione industriale va a carbone, quindi Inghilterra, Francia, Belgio, Germania. Alla fine dell'Ottocento viene inventato il motore a scopio. Il motore a scopio non va a idrocarburi solidi, non va a carbone, ma va a idrocarburi liquidi. Per cui l'epicentro si sposta negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono ricchi di petrolio, per cui non hanno problemi. I tedeschi sono ricchissimi, la Germania è molto ricca di carbone, però non ha petrolio. Allora negli anni 20 i tedeschi in realtà avevano già trovato un metodo per trasformare il carbone in petrolio e in benzina. Questi due chimici, Fischer e Tropsch, Fischer non è il Fischer degli zuccheri, non è neanche il Fischer delle porfirine che vedremo, e un altro, trovano un metodo di trasformare il carbone in benzina. Questa benzina è ottima per gli aerei e per i carri armati. Infatti la produzione è quasi incredibile. Pensate che nel 1944, nonostante i bombardamenti, la Germania produceva milioni di tonnellate di combustibile col processo Fischer-Tropsch. Questa benzina Fischer-Tropsch serviva in particolare per i carri armati. Sapete che i panzer tedeschi avevano una stima incredibile di efficienza bellica. Quando gli stati distruggevano un panzer, ne perdevano quattro, i russi ancora di più. Per cui cosa capita? Che quando c'è lo sbarco in Normandia non ci sono solo i soldati, ci sono anche gli scienziati che vogliono vedere tutti i segreti militari, i segreti scientifici dei tedeschi. E questo, la Fischer-Tropsch è uno dei maggiori, per cui negli Stati Uniti arrivano 140 tonnellate di documenti relativi alla sintesi di Fischer-Tropsch. Questa sintesi non è mai stata competitiva dal punto di vista economico rispetto al prezzo del petrolio, è stata però ripresa dal Sudafrica nel periodo dell'apartheid. Questo perché era proibito commercializzare col Sudafrica, quindi Sudafrica non ha petrolio, ha di tutto, gli manca il petrolio. Allora aveva riattivato il processo Fischer-Tropsch. Il processo Fischer-Tropsch consiste nel trattare ossido di carbonio e idrogeno, che si ottengono facendo passare vapore sul carbone, in presenza di un catalizzatore metallico tipo ferro. Nelle viscere della Terra ce n'è tantissimo, per cui esiste una teoria per cui il petrolio non sarebbe derivato dagli organismi viventi, ma sarebbe semplicemente la Terra che suda in pratica. Questa teoria era sostenuta ad esempio da Mendeleev e effettivamente dal punto di vista geologico esiste in linea di principio la possibilità che il petrolio si formi nelle viscere della Terra. Però dal punto di vista della chimica, della composizione del petrolio, risulta difficile spiegare in modo geologico la comparsa del petrolio. Prendiamo un dato molto banale, idrocarburi pari e idrocarburi dispari nel petrolio. Nel petrolio prevalgono gli idrocarburi lineari che hanno un numero dispari di atomi di carbonio, quindi 5, 7, 9, 11 rispetto a quelli pari, mentre invece il processo Fischer-Tropsch non porta a nessuna discriminazione fra idrocarburi a numero pari e dispari di atomi di carbonio. Questi idrocarburi a numero dispari sono un forte indizio di origine biologica. Questo perché le catene biologiche carboniose sono costruiti a pezzetti di due atomi di carbonio, il malonilcoenzima A che poi decarbossila, per cui si formano gli acidi a lunga catena che poi perdono, che hanno numero pari di atomi di carbonio e poi perdono il carbossile e danno questi idrocarburi dispari, ma torneremo ancora oltre sull'origine del petrolio. In ogni caso esistono anche delle reazioni che forse chi si interessa di queste teorie dovrebbe prendere in esame. Una è quella che secondo me è la reazione più strana della chimica organica, la sintesi di Guareschi del 1897. Questa è una reazione che genera idrocarburi in mezzo aerobico, richiede assolutamente l'ossigeno. Il dogma è che gli idrocarburi si formano soltanto in assenza di ossigeno, però abbiamo questa reazione che è poco conosciuta, anche perché ci sono voluti cent'anni per capirne il meccanismo che ha presentato Iciglio Guareschi all'Accademia delle Scienze di Torino. Nel petrolio troviamo degli idrocarburi molto interessanti. Normalmente pensiamo al petrolio quando andiamo a fare benzina lo bruciamo, però il petrolio è troppo prezioso per essere bruciato. Ci sono delle veri gioielli nel petrolio. Questo è quest'idrocarburo, l'Adamantano. L'Adamantano è una struttura bellissima, notate la simmetria dell'Adamantano. È stato scoperto da alcuni chimici ciecoslovacchi negli anni 30 ed è stato poi sintetizzato, una sintesi veramente spettacolare da questo Schleyer, che era giovanissimo, pensato in due passaggi, passendo dal ciclo pentadiene. Il ciclo pentadiene è un idrocarburo che si trova in tutti i rami della chimica organica. Quindi praticamente il ciclo pentadiene dimerizza spontaneamente dal primo composto a sinistra, tratta con acidi questo composto lo scalda e, meraviglia delle meraviglie, viene fuori l'Adamantano. Questa struttura adamantanica è presente in alcuni farmaci importanti che quindi possono dire, hanno per modo di dire, un'ispirazione fossile, perché l'Adamantano è stato scoperto per la prima volta nel petrolio. Non si sa bene da cosa derivi nel petrolio l'Adamantano. Parlando di molecole fossili, una delle cose più interessanti è che esistono alcuni elementi strutturali che non sono più presenti nelle molecole degli organismi viventi. Uno, ad esempio, ha questo elemento strutturale del gem di metile, cioè due metili attaccati allo stesso atomo di carbonio. Possiamo ottenere delle informazioni molto interessanti da queste molecole fossili. Ad esempio abbiamo questi alcanoni con dei doppi legami che sono dei veri e propri termometri molecolari. noi riusciamo a capire la temperatura dell'acqua in cui vivevano gli organismi che hanno dato questi fossili guardando il numero dei doppi legami. Quanto più l'acqua è fredda, tanto più ci sono doppi legami. Questa è una regola generale perché queste molecole sono dei lipidi e devono essere liquidi, non possono cristallizzare all'interno delle cellule. E' ragione per cui gli acidi grassi, anche oggigiorno, esiste una latitudine nell'abbondanza degli acidi grassi polinsaturi. Gli omega 3 si trovano nei climi freddi, se andiamo a vedere invece i grassi della frutta tropicale sono dei grassi saturi, pensiamo alla palma o all'avocado. Con questo è interessante un termometro molecolare. Dal rapporto della lunghezza riusciamo addirittura a risalire alla salinità, cioè la concentrazione di cloruro di sodio nell'acqua in cui vivevano i microrganismi che hanno lasciato questi fossili. Le porfirine sono le molecole della vita. Quando leggiamo nei giornali che la NASA o le spedizioni cercano di trovare tracce della vita, cosa vanno a cercare? Una delle cose che cercano è la presenza di porfirine. Queste porfirine sono veramente le rique della vita perché derivano dalla clorofilla degli organismi eterotrofi, autotrofi scusate, e derivano invece dall'eme, cioè dall'emoglobina, degli organismi eterotrofi, quelli che cioè non sono in grado di sintetizzarsi i propri alimenti, ma li devono prendere dall'esterno. Quindi clorofilla e eme. Vi è isolato un chimico tedesco, Traibe, che lavorava nel laboratorio di Hans Fischer alla Technische Universität di Monaco. Questo Hans Fischer è stato un grande ricercatore, come Emil Fischer è stato rovinato dalla guerra, in questo caso la seconda guerra mondiale, si è suicidato alla fine, ha avuto il premio Nobel per la struttura della clorofilla, fanno addirittura la sintesi del leme. E queste porfirine fossili si trovano, ad esempio, nelle uova dei dinosauri. I dinosauri sono gli antenati degli uccelli, sapete che ci sono molte polemiche, ma erano colorati, che color avevano i dinosauri? È molto probabile che fossero colorati perché deponevano delle uova colorate. Il colore delle uova dei dinosauri è lo stesso del colore che hanno alcune uova moderne, ad esempio l'emu depone delle uova colorate, che ha lo stesso pigmento derivante dalle porfirine che è stato trovato nelle uova fossili dei dinosauri. Adesso vediamo quelli che sono i minerali organici. A prima vista è un ossimoro, perché siamo abituati a dividere il mondo minerale-animale, ci sono dei minerali che sono costituiti da molecole organiche. Per un amante dei terpeni è il massimo avere un cristallo di questi. Il più famoso è la fictelite. La fictelite è un di terpene che si trova negli essudati dei pini, delle conifere, e che nei reperti fossili è stato isolato già nella prima metà del 1800. Quindi è una molecola importante. L'ossastruttura l'ha fatta a Ruziska, che è un altro chimico che ha avuto il premio Nobel. Ma vediamo un esempio pratico dell'utilizzo delle fossili molecolari. Prima del Cambriano abbiamo un periodo strano che si chiama Ediacarano. Non dura molto, però ci sono delle forme viventi incredibili, che poi l'evoluzione non ha più trasformato, sono finite lì. E non si capisce cosa siano, anche perché alcuni di questi fossili Ediacarani sono fra i fossili più belli esteticamente che ci siano. Chi ama i fossili vorrebbe avere un fossile di questa Dickinsonia. Sono bellissimi, vedete. Il problema è che cos'è la Dickinsonia? È un animale? È un fungo? È una pianta? Non si capisce bene, o almeno non si è capito bene, fin quando sono andati ad analizzare le tracce, e purtroppo hanno dovuto distruggere un pezzo di Dickinsonia, sono andati ad analizzare i lipidi, e in particolare gli steroli. E questo perché animali, funghi e microrganismi, o in generale piante, scusate, i microrganismi hanno altri tipi di steroli, hanno degli steroli che si diversificano per la presenza di un sostituente dove c'è quella freccia. Gli animali non hanno niente, i funghi hanno un metile, un atomo di carbonio, e invece le piante hanno due atomi di carbonio, un etile. E si è visto che gli steroli della Dickinsonia presenti in questo fossile erano praticamente degli steroli in cui in posizione 24, dove c'è la freccia, non c'era niente. Quindi si è dedotto che la Dickinsonia era un proto animale. Qual è la molecola più vecchia che esiste sulla Terra? E' questo opanoide, che l'hanno trovato come sempre in Australia, nel cratone australiano, e questo ha 2,7 miliardi di anni. Pilbera è il nome di questa regione dell'Australia in cui ci sono queste rocce antichissime. Per cui l'Australia detiene il record dell'oggetto più antico che esiste sulla Terra e anche della molecola più antica che esiste sulla Terra. Gli opanoidi sono gli steroli dei microrganismi. Gli animali hanno un tipo diverso, più corto di steroli, invece i microrganismi hanno dei triterpeni allungati che si chiamano opanoidi. Adesso l'ultima parte di questa chiacchierata è dedicata ai rapporti isotopici. Prima avevamo ancora delle cellule, poi abbiamo visto che non abbiamo più neanche delle cellule, abbiamo solo dei composti chimici, adesso non abbiamo più niente, abbiamo solo dei sali o abbiamo del carbone. Come riusciamo a tirare fuori delle informazioni da queste che sono delle vere e proprie reliquie? E qui dobbiamo fare un discorso sulla fotosintesi. La fotosintesi è un processo complicatissimo. Ha la complicazione di un cellulare. La stranezza della fotosintesi è che la fotosintesi, che è efficientissima, la fotosintesi genera il potere riducente, è un catodo, la fotosintesi genera elettroni, la fotosintesi invece non funziona molto bene per quanto riguarda l'assimilazione del carbonio. È come se voi scopriste che il vostro cellulare si ricarica con un mulino a vento. Dice una cosa, dico, il cellulare è progredito, lo devo ricaricare con un mulino a vento. La fotosintesi ha il problema dell'assorbimento dell'anidride carbonica. Questo assorbimento è fatto da un enzima, si chiama rubisco, ce l'avevano già i cianobatteri, il quale è la proteina più abbondante che esista sulla Terra, ma anche la proteina, l'enzima, che funziona peggio che si conosca. Oltre a funzionare poco, non riesce bene anche miope, non riesce bene a distinguere l'ossigeno dall'anidride carbonica. Per cui, oltre a incorporare l'anidride carbonica con scarsa efficienza, si sbaglia anche, incorpora l'ossigeno, per cui bisogna poi sprecare intermedi preziosi per tamponare i danni che fa la sua miopia. Se la vita non è stata in grado di ottimizzare rubisco in 3,5 miliardi d'anni, secondo me vuol dire che c'è qualcosa che ci sfugge. C'è qualcosa che ci sfugge nell'attività di rubisco. Ai nostri occhi, a meno per il nostro modo di vedere, la chimica, rubisco è una schiappa, è una schiappa metabolica. Funziona poco ed è miope. Evidentemente c'è qualche cosa per cui se la vita non è riuscita ad ottimizzare rubisco. Però, se rubisco delude i chimici, è la gioia dei geologi. Rubisco già ce la fa stento a reagire con l'anidride carbonica e quindi distingue il peso dell'anidride carbonica. Distingue fra l'isotopo 13 e l'isotopo 12 del carbonio. Questo è un concetto del tutto generale. Quanto più una molecola è pesante, tanto più, tanto meno ha energia di base. Per cui l'anidride carbonica con l'isotopo 12 del carbonio è più leggera e, vedete, sta più in alto in questo grafico dell'energia. Rubisco ha dei problemi a superare questa montagna. Rubisco, immaginatevi che sia una persona che deve attraversare un valico. Rubisco preferisce partire come base dalla molecola di anidride carbonica col carbonio 12 perché fa meno strada e è meno difficile arrivare in vetta. Per cui il carbonio biologico è più leggero del carbonio geologico perché Rubisco non ce la fa o ce la fa con difficoltà per cui preferisce incorporare il carbonio 12. Lo stato cruciale, il passaggio cruciale di questo, diciamo, accoppiamento fra la fotosintesi e il ciclo di Calvin è quando questa molecola al ribulosio di fosfato viene enolizzato e questo enolo reagisce con l'anidride carbonica e la reazione che abbiamo schematizzato. Allora, dicevamo che il fatto che Rubisco funzioni male è la gioia dei ideologi per cui posso distinguere il carbone qui siamo a riperto di fossili quello che è rimasto posso distinguere il carbone di origine geologica diciamo dal carbone di origine biologica. Adesso torniamo ai nostri fossili ai nostri cianobatteri fossili quelli di 3,4 miliardi di anni fa. si è elevato è nato un vespaio secondo tanti questi che si vedevano non erano degli organismi viventi ma erano dei cristalli che si stavano formando. Allora cosa hanno fatto? Sono andati a dosare in questi puntini neri che sono la base di carbone sono andati a dosare il rapporto fra il carbonio 12 e il carbonio 13 e hanno trovato che effettivamente il carbonio era più leggero quindi sembra proprio che già 3,4 miliardi di anni fa ci fossero dei cianobatteri che facevano la fotosintesi. L'ultima parte di questo discorso è dedicato invece a cosa succede quando il ciclo del carbonio si inceppa. Il ciclo del carbonio si è inceppato due volte dopo il cambriano generando il carbone e generando il petrolio. Normalmente il ciclo del carbonio funziona bene cioè gli organismi fotosintetici assorbono l'anidride carbonica la riducono abbiamo visto rubisco poi nell'accoppiamento e gli animali o in generale gli organismi eterotrofi si nutrono degli organismi autotrofi e quando muoiono vengono degradati dai batteri e ritorna l'anidride carbonica nell'aria. Normalmente c'è un equilibrio questo equilibrio si inceppa due volte. Cosa vuol dire? Si crea troppa biomassa si crea più biomassa di quanta biomassa si distrugga. La prima volta che capita è nel carbonifero cioè da 360 a 300 milioni di anni fa. La maggior parte del carbone si è formato nel carbonifero. La Terra nel carbonifero è molto diversa esisteva un unico continente chiamato Pangea il quale andava dall'alto al basso del mondo e la maggior parte delle terre emerse stavano all'equatore. Non c'era molto buona la circolazione degli oceani perché veniva bloccata da queste terre che stavano a metà del mondo. in questo periodo c'è una crescita straordinaria di vegetali. Non sono gli alberi non sono le piante che conosciamo noi sono gli equiseti e i licopodium. Diventano enormi tutto diventa grande c'è molto ossigeno nell'aria ci sono degli insetti da un metro delle libelli da un metro questi alberi enormi. Questi alberi non vengono degradati e finiscono nei sedimenti sprofondando nella terra vengono trasformati in carbone. Perché si forma il carbone cioè come si forma il carbone è facile da capire cioè non vengono degradati tutta questa biomassa non viene degradata perché non viene degradata? Fino alcuni anni fa l'ipotesi più plausibile quella che andava per la maggiore è che i funghi che sono i principali degradatori della biomassa non fossero in grado di degradare la lignina. La lignina è un polimero di supporto alla cellulosa che nasce quando i vegetali diventano alberi hanno bisogno di devono essere più consistenti hanno bisogno di fondamenta hanno bisogno di qualcosa di duro per cui sintetizzano la lignina. L'ipotesi che andava per la maggiore è che i funghi ci abbiano messo 60 milioni di anni per imparare a distruggere la lignina degli alberi. Pertanto il carbone sarebbe il frutto di un errore di una mancanza del metabolismo da parte dei funghi. Ultimamente questa teoria è stata però molto criticata molto criticata per due ragioni. La prima che sono stati scoperti dei depositi carboniosi anche in periodi in cui i funghi erano capaci a degradare la lignina e secondo sono stati fatti dei calcoli che la lignina era troppa per essere degradata cioè era impossibile che proprio la massa della lignina desse origine a tutta quella massa di carbone per cui l'ipotesi più corrente attualmente è un'ipotesi geologica cioè cosa succedeva? La terra nel carbonifolo globalmente era freddina però la maggior parte delle terre stavano all'equatore avevano un clima temperato per cui i vegetali crescevano rigogliosi andiamo verso i poli verso i poli fa freddo quindi ci sono le glaciazioni le glaciazioni vanno e vengono e il livello del mare si alza e si abbassa quindi cosa succede? Che tutta questa vegetazione cresce sulla terra poi dopo i ghiacciai fondono e viene inondata la terra finiscono in un ambiente anossico sprofondano la terra e generano il carbone vediamo adesso alla genesi del petrolio il petrolio invece ha una genesi marina deriva da un inceppamento del ciclo del carbonio perché il plankton cioè tutti quei microorganismi fotosintetici proliferano troppo o meglio più velocemente di quanto vengono degradati in fondo al mare ecco abbiamo detto che esiste un'ipotesi che il petrolio abbia un'origine inorganica però l'ipotesi più corrente è che il petrolio abbia un'origine biologica abbiamo discusso prima la lunghezza degli atomi di carbonio come uno degli elementi quello che si pensa è che la terra di nuovo abbia un'origine geologica qui siamo più avanti siamo 150 milioni d'anni dopo il carbonifero adesso Pangea si è diviso in due continenti e in mezzo c'è il mare della tetide la tetide è un mare basso la tetide quindi cosa vuol dire che la luce penetra molto questi microrganismi si riproducono poi tetide si chiude e per via di questi sconvolgimenti questi cambiamenti geologici viene a incepparsi il ciclo del carbonio l'ultimo argomento sono le estinzioni di massa quando si parla di estinzione si pensa subito a quella dei dinosauri quando cade il meteorite circa 70 milioni di anni fa cade un meteorite e questo si vede dall'iridio nei sedimenti tutto l'iridio sulla terra è di origine non terrestre però in realtà se guardiamo il grafico questa è un'estinzione minore la più grande estinzione quella che ha veramente rischiato di estinguere completamente la vita sulla terra è l'estinzione del Permiano la grande moria di circa 250 milioni di anni fa la maggior parte più del 90% delle forme viventi sono distrutte cosa succede? si pensa che il processo sia stato innescato da un enorme vulcanismo in Siberia la terra grossomodo aveva quella forma cioè enorme quantità di lava e la lava è basalto genera poi basalto enorme quantità di lava enorme eruzioni vulcaniche in Siberia enorme quantità di anidride carbonica nell'aria effetto serra e poi cosa succede? che i depositi marini di idrocarburi fondono nelle profondità del mare ci sono delle quantità incredibili di metano questo metano è il cosiddetto ghiaccio che brucia se voi prendete si chiamano clatrati i clatrati del metano è un pezzo di ghiaccio però mentre voi non riuscite a accendere un pezzo di ghiaccio normale se un clatrato del metano si accende per cui praticamente la temperatura del mare è aumentata talmente che ha fatto fondere i clatrati per cui si è liberato tutto questo metano il metano ha un effetto serra superiore a quello dell'anidride carbonica per cui quando si parla di riscaldamento globale uno dice 2-3 gradi sì ma vivo bene lo stesso e altre cose il problema è che non si inneschino dei processi tipo questo cioè che fondano i clatrati si parla alcune volte di sfruttare i clatrati del metano in fondo all'oceano forse è meglio lasciarli dove sono per evitare cose di questo tipo e vorrei finire con questa citazione che ho preso dal Corriere della Sera un articolo di Gramellini la temperatura aumenta non si ama a distrutere se uno gli ha dato fuoco alla casa oppure se è un cortocircuito cerchiamo di fare qualcosa e questo è il messaggio che do a voi purtroppo molte persone parlo della mia generazione hanno quella che chiamo la sindrome dell'iridio l'iridio è un metallo prezioso ce n'è pochissimo sulla terra serve a fare molte cose i cellulari diciamo che dipendiamo dall'iridio sempre di più l'iridio è sideroforo quindi cosa vuol dire che tutto quello che c'era originariamente sulla crosta terrestre se n'è andato al centro quando il ferro è sprofondato e tutto quello che c'è deriva dai meteoriti per cui molte volte si diciamo guarda che l'iridio sta finendo e una persona della mia età dice ma non è un mio problema quando finisce io non ci sarò più il problema è vostro per cui il problema della vostra generazione è andare contro questa mentalità dell'iridio cioè di dire non sono fatti miei sono problemi vostri io ho finito con la mia presentazione se avete delle domande sono ben è un piacere rispondervi Volevo chiedere non ho capito bene come si formano i clatrati in fondo agli oceani e perché ce n'è così tanto quando noi vediamo l'acqua del mare sembra una cosa pura in realtà se la guardiamo al microscopio è uno zoo di microorganismi questi microorganismi muoiono e vanno a fondo per cui sul fondo dell'oceano c'è poi il problema di degradarli la degradazione in ambiente anaerobico perché c'è poco ossigeno in fondo all'oceano porta alla formazione di metano quando io sono sotto alta pressione come fondo agli oceani e a basse temperature il metano viene incorporato nei cristalli d'acqua forma questi cristalli con l'acqua che sono questi clatrati c'è una quantità enorme che deriva di nuovo è un inceppamento del ciclo del carbonio però è un inceppamento fisiologico cioè si formano continuamente questi clatrati e ci sono delle quantità enormi il problema del metano dicevo che ha un effetto serra ben più grande a quello dell'idride carbonica è molto semplice capire se un gas ha effetto serra è la teoria dell'infrarosso per assorbire l'infrarosso un legame deve essere fra due atomi diversi per cui il carbonio del metano ha quattro legami con atomi diversi per cui il loro stiramento allungamento e accorciamento non è simmetrico globalmente per cui assorbe l'infrarosso l'ossigeno non assorbe l'infrarosso l'azoto non assorbe l'infrarosso perché è lo stesso atomo l'indride carbonica invece assorbe perché ha dei legami carbonio-ossigeno e quando ha parlato del secondo inceppamento del ciclo del carbonio in mare ha citato la chiusura del mare ma in che modo questa chiusura ha permesso la nascita del petrolio in realtà non è una chiusura è un'apertura abbiamo visto che nel carbonifero tutte le terre stanno insieme in Pangea poi Pangea si rompe e vengono fuori la Laurasia e il Gondwana la Laurasia sarebbe non solo Europa l'Asia l'America il Gondwana Sud America e Africa ecco si apre e si crea questo mare interno basso si apre per via della tettonica placca e si crea una dorsale in mezzo e si separano i continenti da questo mare tetide ad esempio il Mediterraneo il Mar Nero il Mar di Aral sono tutti i residui di questa tetide questa tetide è un mare poco profondo se il mare è poco profondo cosa vuol dire che la luce penetra molto penetrando molto la luce è una manna per i microrganismi i microrganismi proliferano alla grande poi cosa succede che questo mare si prosciuga diventa più cambia il livello delle acque livello delle acque addirittura si pensa che una parte del Mediterraneo a un certo punto si sia addirittura rimasta senza acqua e per cui questi sconvolgimenti geologici portano a un'interruzione della degradazione di questo materiale che si accumula e infatti il petrolio si trova in quelle terre che una volta si trovavano nella tetide vediamo l'Arabia il Nord Africa una parte degli Stati Uniti quanti di voi sanno chi ha scoperto il metano e dove è stato scoperto non è molto lontano è stato scoperto da Alessandro Volta che voi conoscete per bene altri motivi per lavori che ha fatto successivamente e l'ha scoperto in un posto che si chiama Arona sul lago Maggiore si chiamava Gas delle Paludi lui si è reso conto che questo strano Gas delle Paludi si incendiava a livello dell'acqua e quindi ha voluto analizzarlo ricordatevi che anche studiare un pochettino della storia di come sono scoperti minerali fossili composti inorganici e organici fa parte del nostro bagaglio culturale per capire l'importanza delle cose purtroppo invece di dedicarsi ai fossili oppure al metano che avrebbe fatto dell'Italia un paese forse ricco lui si è dedicato alla corrente elettrica e che non è male però non sufficiente volevo chiedere visto lo smodato utilizzo del carbone del petrolio da parte dell'umanità è ancora possibile che il ciclo del carbone avvenga in modo naturale non so se rispondo con molto piacere la plastica è un esempio di inceppamento del ciclo del carbone la plastica non è biodegradabile il polietilene dura mille anni è un inceppamento su scala piccola però teniamo presente che tutte le volte che buttiamo via la plastica inceppiamo il ciclo del carbonio infatti quello che stiamo facendo la plastica è una cosa meravigliosa il problema è che non andrebbe buttata via la plastica non è biodegradabile cioè se io butto via la bottiglietta in teoria potrebbero farmi un monumento dico qua mille anni fa un tuo antenato butto via fu maleducato e butto via una bottiglietta di plastica si inceppa il ciclo del carbonio beh io volevo chiedere in che modo il rapporto tra C13 e C12 ha fatto capire che si trattasse di cianobatteri e non di cristalli invece rispondo volentieri abbiamo visto che la vita preferisce il carbonio leggero per cui se quel carbonio quei derivati carboniosi presenti all'interno di quelle cose che secondo alcuni erano cellule batteriche diciano batteri secondo altri erano dei cristalli se il rapporto carbonio 12 carbonio 13 fosse quello geologico allora sarebbe stato un cristallo del carbonio che contaminava un cristallo in formazione però secondo quello studio fatto con una metodica molto raffinata di spentrometria di massa il rapporto carbonio 13 carbonio 12 era un carbonio cioè c'era più carbonio leggero c'era più carbonio 12 per cui quei residui organici derivavano dall'attività di un vivente notiamo che questi rapporti isotopici carbonio 13 e carbonio 12 sono leggermente diversi nelle piante per cui alcune piante hanno ideato un metodo molto macchinoso di compensare al fatto che rubisco non funzioni tanto bene per cui praticamente ci sono due altri metabolismi sono quello delle crassulacee e quello delle piante C4 che funzionano molto meglio delle C3 vi do un esempio pratico ci sono alcune piante grasse che si mangiano sono mangiabili e in particolare ce n'è una una crassulacea adesso ho solamente il nome piemontese non so il nome italiano per cui l'avete che per cui se voi leggete i libri di cucina vi dice questa pianta da insalata va raccolta la sera perché se la raccogliete di mattino è troppo acido è vero è un esempio di questo metabolismo che le piante hanno per migliorare l'attività di rubisco per cui praticamente accumulano acidi di notte e poi di giorno poi li riconvertono in glucosio e in amido a seconda possiamo risalire al cibo di alimentazione che uno aveva misurando il rapporto andando più in dettaglio nel rapporto c12 c13 perché le piante che hanno questi metabolismo migliorati sono meno discriminanti del carbonio leggero per cui ad esempio si riesce a capire se i nostri antenati mangiavano più riso il riso ad esempio è un'anomalia perché non è mai riuscito a migliorare il suo metabolismo diversamente dal mais il mais è molto più efficiente è riuscito a migliorare il rubisco è diventato una pianta cosiddetta c4 mentre il riso è rimasto pianta c3 allora misurando questi rapporti voi dite ho un dente cosa tiro fuori da sto dente allora misurando i residui di cibo che ci sono magari attaccati si riesce a capire la dieta cioè cosa mangiassero è incredibile cosa non dice l'analisi isotopica l'analisi 1 non abbiamo più misteri non abbiamo più misteri ormai la privacy non esiste più cioè i rapporti isotopici sono un grande attentato alla privacy si riesce a sapere tutto di noi persino cosa mangiamo è stato fatto ad esempio su Oezi quella sapete quella mummia che ha scoperto del tirolo uno dice ma a parte che hanno trovato delle cose dell'intestino però come hanno fatto a capire quella è la sua dieta sono andati a vedere il rapporto c13 c12 ad esempio le erbe la maggior parte dell'erba sono delle piante c4 quindi hanno la fotosintesi migliorata rispetto alle piante c3 e andando a misurare questi rapporti si riesce anche a capire non abbiamo più neanche la privacy di riuscire a tenerci per noi cosa mangiamo ad esempio si riesce a capire se uno mangia più piante o mangia più cibi di origine animale allora io ho due domande la prima domanda è sul comportamento così ad inceppi dell'erubisco e poi la seconda sul fatto che i tedeschi le ha detto hanno utilizzato la benzina dagli idrocarburi durante la guerra per i carri armati io volevo chiedere se c'è stato qualche altro paese dopo la seconda guerra mondiale che ha usato sempre questa stessa benzina per la guerra grazie perché riuscola apparentemente funzioni così male è un argomento bellissimo per le spiegazioni che si trovano una delle spiegazioni dunque innanzitutto dobbiamo dire che rubisco non fa una cosa facile deve distinguere l'anidride carbonica dall'ossigeno sono due molecole molto piccole normalmente gli enzimi hanno dei substrati che sono già più complessi se noi guardiamo la struttura dell'ossigeno e dell'anidride carbonica non è che siano proprio diversissimi fra di loro per cui già fa una cosa difficile la spiegazione diciamo che va per la maggiore è che rubisco sia nato effettivamente più di 3 miliardi di anni fa in un mondo in cui c'era poco ossigeno per cui non aveva il problema di distinguere l'anidride carbonica dall'ossigeno non c'era ossigeno tutto l'ossigeno presente sulla terra l'ossigeno molecolare deriva dall'attività fotosintetica e di origine biologica l'ossigeno per cui quando nasce rubisco nelle profondità del mare di ossigeno ce n'è pochissimo e quel poco di ossigeno che c'è viene intrappolato dal ferro ferroso viene ossidato e fa quei famosi quelle famose deposizioni a bande il beef vengono chiamati banded ion formation che sono a bande perché corrispondono a periodi di crescita maggiore o minore di questi cianobatteri per cui rubisco nasce praticamente come minerva dalla testa di giove ottimizzato per il contesto in cui nasce il problema è che poi cambia il contesto perché la vita passa dal mare sulla terra la quantità di ossigeno aumenta però probabilmente è nato così ottimizzato così ottimizzato per i tempi in cui è nato che è molto difficile a questo punto cambiarlo è come se praticamente cambiassero il sistema operativo di un cellulare supponiamo non so avete il Macintosh e cambia combinazione il vostro computer funziona col Mac e poi viene creato da un giorno all'altro o meglio nel tempo un nuovo sistema di gestire il computer il vostro sistema è altamente specializzato ed è difficile riciclarlo così un'ipotesi una delle tante ipotesi quella che mi sembra più ragionevole è che Rubisco è nato così ottimizzato così evoluto anche che è poi difficile fare delle modifiche lo stesso la fotosintesi la fotosintesi nasce già praticamente perfetta guardi non sono un esperto bellico però a quanto ne so il processo Fischer-Tropsch è stato usato in scala massiva solo dal Sudafrica ma non per scopo bellico semplicemente perché era proibito c'erano le sanzioni contro il Sudafrica per l'apartheid per cui il Sudafrica non aveva petrolio non poteva importarlo e allora se lo faceva è ricco di carbone come la Germania negli anni 30 grazie 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 grazie